Ciao ragazzi, benvenuti a un'altra recensione villana, oggi per cambiare un po' parliamo di un vero manga serio, di un manga del maestro Atsushi Kaneko, R, porca puttana poi, published by dbooks, dbooks, dvisual, solo roba seria, questo è un pezzo forte, un pezzo rare, guardate questa bellissima, dico il punto esclamativo, tanta roba, uno dei pezzi più rai della mia collezione, un volume esaurito che voi spiegate, manco potete permettervi, fa! Poi cosa dire dai, Atsushi Kaneko è un maestro, un maestro del manga, un maestro del seinen, questo volume è fenomenale, prezzo di 8,50 euro, ne parliamo dopo del prezzo che ho pagato, è per un'edizione, guardate, un'edizione interamente a colori, non so se si nota, mettiamo, se mette a fuoco meglio, vedete, ecco, c'è questo inchiostro colorato che cambia colore per ogni storia, veramente una figata, non come quei volumi di merda come Emanon, 15 euro per una cagata con qualche colore, guardate qua, questi poi sono i veri retini, guardate cazzo, guardate che cazzo di pagine ragazzi, questa era una casa editrice seria, non come la j-pop che fa schifo al cazzo, loro volumi sovrapprezzati di merda, loro copertine tutte lucide, vabbè, partiamo a dire, vediamo un attimo di come ho comprato R, che dire, R l'ho scammato, scammato quel coglione del master, master se vedi questo video, c'è una testa di cazzo, torna a guardarti i tuoi ecci di merda e lascia i miei cani qua a me, tra l'altro questa è la tupertina fatta dal master, ha sfigato, li ho inculato io, sotto c'è la versione originale, guarda, tanta roba, quindi cazzo di un inculato, coglione, master di merda, tornati a leggere maghi, crocio, vabbè, per un coglione, cosa dire, questa edizione è veramente una bomba, cos'è R, ritrovo, porca miseria, un attimo che mi si è staccata la copertina, vabbè, facciamo così, tolgo proprio la sovracoperta, così la faccio vedere bene, questa è quella originale, questi bei colori slavati di lusso, sotto coperta e bianco però chiaramente una scelta estetica per indicare la purezza di un editore che non si fa piagare dalle leggi di mercato, con quell'iscione di merda, e qua tutto in bianco e nero perché è stiloso, l'indice non c'è a quanto pare, mi ricordavo male, però ci sono queste bellissime cose, guardate, impara l'alfabeto con Sushi Kaneko perché chiaramente, e poi qua, spiegazioni, nove parabole vi sono piaciute, per chiudere in bellezza voglio provare a fornire una mia spiegazione di queste storie, Kaneko è avanti, non come quegli altri lettori che ti lasciano un volume lì e dici cosa, e non ti spiegano un cazzo, Kaneko, e lì ti dice, io ho scritto questo perché, ho scritto questo perché, ho scritto questo perché, tanta roba, e qua, poi, produzione Federico Colpi, più grande, il MVP, il most valuable player dell'editoria italiana, non come quei coglioni di adesso, ti dico Colpi, è uno serio, adesso se ne sta Taiwan tipo, non so perché sia andato in quel posto del cazzo, però, tanta roba, guardate, printed in Taiwan, mica in Cina, come roba da J-pop, che cazzo, vabbè, qual è la particolarità di R di Kaneko? Beh, come avete visto, è una raccolta di storie, tutte fatte con una maniera proprio, proprio se, proprio sui generi, direi, abbiamo la prima storia che, in inchiostro normale, con una leggera sfasatura gialla, i più stupidi diranno, vabbè, cos'è, è un errore, no, non è un errore, Kaneko che è un genio, è avanti anni luce, lui, porca puttana, no, come quegli scemi shonen, guardate che tratto, comunque ricordo che Mebius è un autore di merda, la gente viene sempre a citarmi Mebius quando parlo di Kaneko, di Matsumoto, come se servisse qualcosa da Mebius, ma chi cazzo lo conosce, un vecchio di merda, poi anche morto, guardate che bello, mi è rimasto un po' di colore qui, mmm, sugoso, è un manga che è un'esperienza anche tattile, posso subire sulle mie mani l'influsso del volume, tanta roba, quindi non capisco perché devono sempre parlare di questi francesi di alcazzo, francesi di merda, ma da, che merda, Kaneko, tanta roba, guardate, questo tratto assolutamente che rompe i canoni giapponesi ed è completamente originale, non si rifà assolutamente a nessuno, qua diventa tutto verde, invece avere le solite campiture nere, come tutti, come quello scemo di Obata, bianco e nero, sti cazzi, nying e nyang, vabbè, vaffanculo, abbiamo il verde, il verde è quello che mi ha preferito, colore della ganja, la ganja, tanta roba, questa è la dell'alieno, un fattone, tanta roba, guardate, gli ubracconi, vabbè, coglioni, tanto muoiono tutti, un po' un po' di droga, mica male, tanta roba, un manga lisergico, chiaramente, qua, un verde più chiaro, ganja, ganja ancora migliore, rosso, heat meat, qua parliamo degli hamburger, guardate, guardate le bellezze di Kaneko, altro che Kamimura, spiegato, Kamimura, cazzo, sono di 50 anni fa, vabbè, manco mio nonno leggeva Kamimura, vabbè, che pena proprio YouTube Italia, sono tutti dei normi, sembra parlare di Kamimura, guardate, questa cosa mette narrativa, la storia rossa, perché era il rosso e quello del sangue, dai raga, cazzo, la storia verde, questa è la storia più bella di tutte, ovviamente sembra di essere in un trip di acidi, tanta roba, cazzo, non mi sentivo così da ieri sera, poi tra l'altro l'inchiostro effettivamente in sé è blu, quindi questa contrapposizione giallo-blu, tanta roba, madonna che figata, di visual the best, only the best, scopare, fa sempre bene, tanta roba, droga, stupri, scopare, droga, fondamenti di un bel manga, R di Atsushi Kaneko, miglior manga che leggerete nella vostra vita.